russi del duca danno vita una bellissima partita senza risparmiarsi due rigori sanciti due espulsioni quattro gol finale soprattutto il punto che cercava la band di montanari per la matematica certezza dei playoff con una finale di coppa italia ancora da giocare dopo il toffo di pietro acuta la del duca ribelle sprofonda anche a russi già dopo solo i pochi minuti di gioco quando tassinari di testa deposita il pallone calzato da lombardi alle spalle di teodorani ma il vantaggio dei falchetti destinato a durare poco la del duca ribelle non ci sta da una manovra insistita i padoni di casa non riescono a gettare il pallone al di fuori dell'area di rigore fino a quando la zappata vincente è a cura di farabigoli che fa gridare al fallo la difesa di casa ma così non è per il direttore di gara parità ristabilita in campo ma la partita continua ad essere vincente forti carambola precipitosamente su filippi dentro l'area di rigore per il direttore di gara trattasi di penalty sov dagli 11 metri si lasci per utilizzare da teodorani e sul capovolgimento dell'azione la del duca ribelle va vicinissima sul passo con dumitru che in velocità mette il pallone sul fondo a parte in verse questa volta temporina terra su dumitru i rigori in questo caso a favore della del duca ribelle dagli 11 metri dumitru a presentarsi e a non sbagliare l'appuntamento con il gol 1 a 2 mai pareggio notato ad arrivare come nel caso del primo gol ed ecco che la conclusione di gualandi viene sporcata dalla difesa della del duca ribelle sui piedi plazzi che al limite del fuorigioco infila l'incolpevole teodorani per il 2 a 2 nuova parità in campo la ribelle va vicinissima al conto soparso ma qui mazzarini manca l'appuntamento con il gol mentre dall'altra parte teodorani fa buona guardia sul proprio pallo su questo tentativo di filippi nella ripresa la girata di dumitru termina abbondantemente a lato sul versante opposto la conclusione di sov viene sventata dalla difesa ospite sui piedi di plazzi che trova l'opposizione teodorani a negarli la gioia del gol ancora russi vicinissimo avversario questa volta il turno di lava che spedisce sul fondo dopo un batti ribatti in aria avversa sov invece da posizione insolita cerca l'effetto sorpresa teodorani si rifugia in corner dumitru invece in contropiede si divore i 2 a 3 sparando addosso all'ottimo casa dio bravissimo in uscita nel finale ancora sov protagonista la conclusione viene rispinta sui piedi di filippi da teodorani ma l'attaccante dei falchetti commette fallo sul portiere ospite gol dunque annullato nel finale a gualandi e lombardi non se le mandano a dire il numero 6 ospite interviene in maniera scomposta scambio di carezze e allontanamento per entrambi russi che cerca ancora la via dei gol a filippi viene annullata la rete per fuorigioco prima che al foto finisce fontana dopo un batti ribatti in aria avversaria recrimini per un calcio di rigore termina qui una gara ben giocata da ambedue le formazioni ricca di emozioni ben giocata da ambedue le formazioni ricca di emozioni